Gli atleti neroverdi dell'Aquila Rugby Club scenderanno in campo domenica prossima al Fattori contro i Medici con stampato sulla maglia Abruzzo la forza di una terra. Un progetto che la squadra neroverde sta conducendo insieme alle maggiori realtà sportive abruzzesi come il Chieti al Roseto Basket e il Pescara Calcio. L'intento è quello di promuovere il territorio abruzzese portandolo all'attenzione di un pubblico nazionale per la sua rinascita e per il suo rilancio dopo gli eventi catastrofici degli ultimi mesi. Riteniamo giusto che l'Aquila Rugby partecipi alla vita regionale e soprattutto alla rinascita della regione Abruzzo. Di fatti è come se fosse un my sponsor di cui prendiamo il nome e abbiamo fatto una richiesta in federazione che a questo punto del campionato se ci viene autorizzata dalle prossime domeniche ci chiameremo Abruzzo l'Aquila Rugby Club. Il presidente Zaffiri torna a rimarcare l'importanza del sostegno economico da parte di imprenditori politici e cittadini per la squadra neroverde per consentire al rugby di finire il campionato. Sono incerte infatti le ultime due trasferte della squadra neroverde per mancanza di fondi per far fronte alle spese di viaggio, di vitto e alloggio.